Il Cagliari esce con le ossa rotte da San Siro, l'Inter vince 4-0 con una doppietta di Lautaro Martínez, i gol di Cananoglu e di Sanchez e quindi deve salutare una nuova sconfitta in un campionato che non le sta regalando tantissime soddisfazioni. Io sono Simone Spada, giornalista di Nemesis Magazine da due anni. Vi parlo delle gesta del Cagliari Calcio su questo canale, quindi iscrivetevi per non perdervi neanche un video e quindi essere sempre collegati con le ultime uscite. Vi ringrazio anzi per le tante visualizzazioni dell'ultimo video, quello relativo a Cagliari Torino. Quindi Inter Cagliari 4-0, i nerazzurri vanno al primo posto in classifica e fanno valere la maggiore superiorità nei confronti dei rosso-blu, sia sul possesso palla, sia sulle azioni, sia sulla qualità degli uomini, ma anche sulla qualità del gioco. Perché Cagliari, come al solito, è andato lì per difendersi, ha avuto nel primo tempo qualche sortita, bella, quella di Bellanova all'inizio, però niente di più, perché insomma non c'è stato niente di più. Craglio ha parato anche un calcio di rigore, però per il resto ha solo nerazzurro per andare a prendere poi la prima posizione in classifica. Cagliari esce con le ossa rotte, perché questo è... Quindi la posizione di Mazzarri adesso si fa veramente molto, molto difficile. Promossi e bocciati di questa gara. Promossi nessuno, perché effettivamente quando prendi così tanti gol, insomma, è difficile promuovere qualcuno. Sicuramente Craglio ha cercato di far di tutto per non prenderne così tanti, ma purtroppo la situazione è stata quella che è stata, ha parato anche un rigore. Però i bocciati, direi tutti, tutti coloro che hanno giocato. In particolare l'allenatore, perché già dalla conferenza stampa non aveva dato buone sensazioni. Aveva dato la sensazione che se andasse a Milano con l'Inter a giocarsela così, giusto per limitare i danni. Purtroppo i danni sono stati tanti e quindi non li ha limitati abbastanza. Quello che dà più fastidio è che il Cagliari non riesca a pareggiare quello che fanno le altre squadre, insomma, di medio-bassa classifica. Quello che ha fatto l'Udinese con il Milan, che ha fatto l'Empoli con il Napoli, che ha fatto il Venezia con la Juventus. In Cagliari le prende, le prende sempre, in qualsiasi situazione. Ed è veramente un peccato, perché, insomma, la squadra scarsa non è. Però se si va a Milano a giocarsela in questa maniera, non è granché. Intanto si aspetta l'Udinese per la prossima gara, quindi sabato prossimo alle 20.45 alla Uni-Poldomus. Vedremo se in panchina ci sarà ancora Mazzarri o ci sarà qualcun altro al suo posto. Se dovesse esserci ancora Mazzarri, sarà la partita decisiva sia per le sorti dei Rosso-Blu che della sua permanenza in panchina. Da Simone Sparri è tutto, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.